Volevo diciamo parlare di un altro breve passo di questa guida che ha avuto tanto successo nelle prime settimane, dal titolo con tutti i ricorporai, figli su camigli, nico nico non andare a segare mai a mai a cagare un po' cazzo che sta avendo grande successo da mai si muove in tutte le librerie d'Europa e anche in America. Bene, volevo citare un altro passo, abbiamo spesso il problema delle domande dei bimbi che spesso a noi genitori ci procurano qualche apprezzione, diciamo qualche dubbio, bene una domanda che ricorre spesso a cui noi diciamo non sappiamo come rispondere molto spesso è papà, mucca il tuo computer, ho una domanda del genere che in questo periodo è ricorrente perché i viciniti ora si fissarono su stacchi computer, come rispondere? Io risponderei in questa maniera. Figgli su camigli, nico nico, non andare a segare mai 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 tuoi a cagare un po' cazzo con questi minchiai tuoi computer, chi faccia fare il credito con il tuo computer? Chi minchia a fare? A che non mi su cazzo, bastardo, non andare a segare mai mai perché il tuo computer tu un copro non d'arresta, prima a te e poi a cagare su che minchia tua madre, basta, va cagare ora, va ditte, bastardo, a quale computer, a quale computer? Va ditte, stai facciare, cazzappati da chi, a quale computer? Chi minchia!